siamo su facebook almeno ci siamo già dice di sì adesso vediamo adesso devo vedere su facebook ci siamo ok ci siamo sì ce l'ho ce l'ho perfetto quando vuoi ci siamo siamo un minuto in anticipo un minuto di più per parlare buonasera a tutti oggi siamo qui per la prima volta con la diretta su facebook di barbara luvero in assenza di barbara luce perché manca barbara proprio barbara manca però noi cercheremo di fare del nostro meglio e darvi tutte le nozioni che riusciamo a darvi sempre oggi con noi ospite abbiamo roberto spaggiari che parlerà del prodotto chimico hotel cucine ristorante poi salutiamo fabrizio famularo ciao buona serata a tutti e salutiamo gli altri ospiti che ci sono in incognito che non li vediamo e salutiamo tutti che ci seguono su facebook allora io vi ricordo che ci potete seguire su facebook su instagram su tutte le nostre pagine non so iniziamo sei emozionata mi sono un pochino emozionata vi ricordo che sono aperte l'iscrizione all'associazione l'associazione italiana operatori hotel che rivolta a tutti gli operatori dell'hotel a 360 gradi e quindi non solo riparto housekeeping non solo housekeeping ma tutti i reparti e per le info e iscrizioni e mandate un email a info.segmail.com e noi saremo aspetti di rispondervi a tutte le vostre le vostre richieste ecco adesso partiamo la cosa più interessante a quale dedicata alla nostra diretta di oggi che sono i prodotti chimici ok va bene va bene lo faccio lo faccio lo faccio comunque dai giusto per per dare un'introduzione al discorso ormai tanti di voi mi conoscono ci siamo già visti talmente tante volte per cui sono il responsabile tecnico di arco chimica un'azienda di modena che da 25 anni anzi 27 anni produce prodotti detergenti per le pulizie in ambito professionale da 12 anni a questa parte mi occupo in maniera quasi non totale ma quasi del settore alberghiero dove ho trovato tanti spunti tante cose interessanti di cui di cui parlare su cui lavorare perché ce ne sono veramente tante e la giornata di oggi diciamo che cercheremo di fare un po di chiarezza sul discorso dei prodotti per le pulizie perché c'è ancora parecchia confusione e quindi cercheremo di mettere come si suol dire il cosiddetto puntino sulle i sulle cose più importanti senza lasciarci prendere da dagli amori per determinate cose o dalle passioni per altre cose per cui ho preparato qualche slide da poter condividere con i nostri con i nostri partecipanti per cui se tu sei d'accordo condivido lo schermo sì sì Roberto prego condividi lo schermo e intanto io volevo farti la domanda fondamentale che generalmente tutti noi ce la poniamo perché in un albergo o in una in un ristorante una cucina devo necessariamente pulire con un prodotto professionale e non con uno domestico perché non posso andare al supermercato fornire fornirmi di tutti i prodotti quelli bellissime con le etichette tutto quanto e venire e fare una bella pulizia nella mia struttura e devo comprare per forza quello professionale magari quelle etichette che fanno pubblicità anche per televisione tutte belle colorate quelle colorate e con con delle cose che miracolose infine no perché le pubblicità ci dicono questo allora diciamo che non è che non si può fare si suggerisce caldamente di non fare le pulizie con i prodotti professionali con i prodotti domestici per un motivo molto semplice perché il prodotto domestico nasce per essere un prodotto domestico lo dice la parola stessa per essere utilizzato per la pulizia della propria abitazione o dei propri ambienti non per un ambiente dove la frequentazione è data da ospiti che tutti i giorni arrivano nella struttura alberghiera e sono le persone più disparate cioè per chi lavora da tanti anni negli alberghi sa perfettamente che le persone che frequentano gli alberghi noi non le conosciamo non sappiamo chi sono non sappiamo se sono persone che stanno bene se sono persone che sono portatrici sane di qualsiasi tipo di malattia o di infezione o quant'altro il prodotto professionale nasce per essere utilizzato professionalmente e questo significa utilizzare poco prodotto per pulire quello che generalmente succede molte volte all'incontro all'interno degli alberghi perché abbiamo visto tante persone utilizzare tanto prodotto pensando che se utilizzo tanto prodotto pulisco meglio questo concetto va bene per il prodotto domestico quindi quello della grande distribuzione non va assolutamente bene per il prodotto professionale il prodotto professionale lavora esattamente al contrario cioè ne devo usare il giusto quantitativo per ottenere il risultato del pulito senza dover fare operazioni di ripasso, di risciacquo per togliere allonature, estriature e quant'altro quindi non è vero che se devo pulire bene devo per forza metterne tanto e fare tanta schiuma? sul prodotto professionale assolutamente no con il prodotto professionale assolutamente no anzi la schiuma io tante volte mi sento dire se il prodotto fa schiuma pulisci di più scusate se sorrido ma perché mi metto un sacco di aneddoti per cui dopo non riesco ad andare avanti con la diretta perché parlerò solamente delle cose che sono successe la schiuma ha una caratteristica che porta obbligatoriamente all'operazione del risciacquo sempre perché la schiuma io non la posso lasciare visibilmente a vista sopra le superfici per cui devo risciacquare per risciacquare ci vuole tempo e noi sappiamo perfettamente Cornella che nel tempo oggi le cameriere ne hanno sempre di meno ne hanno sempre di meno cioè non siamo arrivati a tempistiche di rifacimento camera che sono veramente una roba a cottimo a cottimo si lavora a velocità supersoniche pretendendo peraltro la qualità del servizio perché poi il grosso problema che abbiamo e che hanno le cameriere e le governanti che operano il settore alberghiero è che si pretende sempre il top del servizio il top del risultato però diminuiscono sempre i tempi ci sono letti adesso in questo periodo qua magari un po' meno perché il covid ci ha portato comunque a tra virgolette spogliare le camere dell'albergo di tutto quello che era superfluo non ci sono più letti con otto cuscini magari Fabrizio era contento se ce ne erano otto perché c'erano otto fedeli che giravano per camera però magari adesso i cuscini ce ne sono quattro due o quattro non ci sono più i cuscini d'arredo non ci sono più i cuscini appoggiati sopra le poltroncine sui divanetti e quant'altro perché la camera è stata per ovvie ragioni è stata spogliata di tutto ciò che è superfluo l'hanno tirato via per cui da questo punto di vista diciamo che c'è meno ci sono meno cose da movimentare è altrettanto vero però il covid ci ha obbligato a fare delle cose che prima non facevamo cioè la fase di disinfezione della camera prima non si faceva quindi ci hanno tolto una parte delle cose tra virgolette inutili ma che però facevano creavano arredo all'interno della stanza ma per quel tempo che non dobbiamo più impiegare per mettere a posto quelle cose lo dobbiamo impiegare per fare la disinfezione quindi il problema è che dicono vabbè ma non hai più otto cuscini se ne hai quattro ci metti meno tempo prima non disinfettavo adesso disinfettare il tempo è sempre quello non è che ho cambiato le cose invece loro molte volte i direttori o i proprietari pensano che avendo tolto tutto il superfluo ci si impieghi meno tempo a fare le pulizie della stanza non è così sappiamo perfettamente che non è così perché oggi l'attenzione che si rivolge all'ospite all'interno della struttura alberghiera è ai massimi livelli a livello di pulizia e di disinfezione dell'ambiente siamo arrivati quasi all'ospite 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 ragioniamo in questi termini per cui giusto la scelta dei prodotti Roberto parliamo della scelta dei prodotti sì in una struttura alberghiera per pulire le camere le parti comuni e tutti gli altri dove vanno pulito come facciamo a scegliere il prodotto giusto quali sono i consigli fondamentali per guardare per scegliere il prodotto giusto allora innanzitutto le superfici allora diciamo che il punto nevralgico della scelta del prodotto sono le caratteristiche delle superfici che ci sono all'interno delle stanze o degli ambienti comuni perché io quando parlo di alberghi non parlo solo di camera d'albergo ma parlo dell'hotel in generale tra l'altro oggi parleremo anche di cucine per cui parleremo anche di quello quindi la scelta del prodotto deve essere gioco forza mirata sul discorso della pulizia delle superfici è altrettanto vero bisogna essere chiaramente onesti su questa cosa qua che ormai i produttori di detergenti hanno dei formulati che permettono comunque con pochi prodotti perché oggi veramente puliamo veramente con poco all'interno delle stanze ma con pochi prodotti ed efficaci riusciamo a fare quello che magari qualche anno fa si faceva utilizzando più prodotti di tipologia completamente diversa una dall'altra diciamo che oggi con un buon prodotto per lo spolvero con una buona base alcolica che permette al prodotto di evaporare velocemente riusciamo a fare oltre agli arredi riusciamo a fare anche vetri specchi schermi della tv e quant'altro con un buon prodotto per il bagno che abbia un buon potere sequestrante del calcare è un buon distacco per quanto riguarda il discorso delle parti di sapone o di altre cose utilizzate dall'ospite sulle superfici del bagno ci permette comunque con un prodotto di fare l'operazione di pulizia all'interno del bagno e un manutentore neutro da pavimenti neutro poi dopo parliamo in specifiche maniera quindi parliamo anche della scelta del prodotto non solo in base alla superficie ma in base anche al suo pH se è un pH neutro e se è un pH alcalino sì anche se in realtà soprattutto per quanto riguarda la pulizia del bagno la scelta della tipologia di prodotto ad utilizzare in bagno può variare a secondo delle superfici che io ho all'interno del bagno faccio un esempio se io ho delle superfici in marmo all'interno del bagno io personalmente difficilmente consiglio un prodotto a base acida anche se i prodotti a base acida che si utilizzano per fare le pulizie giornaliere delle superfici del bagno sono prodotti generalmente a base di acido citrico che è quello derivato dagli agrumi quindi un acido molto leggero un acido organico molto leggero che serve per eliminare la macchiolina del calcare che si deposita giornalmente sulle superfici sulle robinetterie generalmente questi prodotti qua hanno un buon potere di eliminare anche i residui di sapone dalle superfici lasciano le superfici brillanti molte aziende vendono questo prodotto qua come un prodotto senza risciacquo negli alberghi non si fa negli alberghi non si fa noi abbiamo un prodotto per la pulizia del bagno a base di acido citrico che è un prodotto senza risciacquo lo si può utilizzare senza risciacquare le superfici negli alberghi io faccio risciacquare sempre faccio risciacquare sempre per un discorso di eliminare anche il residuo del prodotto che può rimanere sopra le superfici stesse ma proprio per il motivo che dicevamo prima io per pulire un lavabo di un lavandino spruzzo due volte sulla spugna e pulisco il lavabo ho visto il cameriere spruzzare dieci volte per pulire un lavandino dei spruzzi poi ne parleremo sì esatto perché per quanto riguarda lo spruzzo esatto 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 la scelta è una scelta almeno per quanto riguarda me come tecnico del campo della detergenza è del pochi ma buoni io non a me non piace vedere il carrello strapieno di prodotti esatto brava che poi si fa anche confusione perché parliamo di persone che comunque tutto il giorno lavorano per otto ore fanno pulire camere si devono spostare quindi avere un cestino pesante con tanti flaconi che si che devono portare appresso esatto nella fretta magari di si rischia anche la confusione di sbagliare il prodotto esattamente esattamente si rischia di rovinare anche la superficie vero roberto esatto esatto ne abbiamo viste ieri è stato l'ultimo episodio ne parlavo stamattina al telefono con un amico che tra l'altro conoscete tutti visto che ho collegato con franco silvestrin che ho condiviso con lui un'esperienza di ieri pomeriggio ieri mattina nella stessa di firenze albergo nuovo appena ristrutturato e già la superficie rovinare quindi la cameriera deve avere il suo cestino con pochi prodotti ma prodotti buoni scelti con cura in base alla sua struttura a quello che ha nella stanza guarda guarda il concetto del pochi ma buoni per un commerciale è un concetto che non esiste infatti noi ne abbiamo già discusso parecchie volte durante le nostre dirette e Barbara questa è una cosa che so che gli fa piacere scusate se ne riparliamo perché è una cosa su cui puntiamo sempre il dito quando discutiamo di queste cose qua il nostro è un settore quello del chimico dove ci sono tanti bravi venditori ma ci sono anche tanti bravi raccoglitori di ordini nel settore alberghiero il raccoglitori di ordini non può avere successo per un motivo molto semplice perché se io vado per riempire i magazzini dell'albergo non sono in sintonia con le cameriere e con la governante io entro in sintonia con le cameriere e con la governante quando io vado a risolvere il problema e soprattutto quando io tolgo delle cose all'interno della struttura alberghiera se io continuo a riempire la struttura alberghiera di prodotti perché faccio più fatturato sì ne godono solamente le mie tasche da venditore ma dal punto di vista professionale io sono sempre un raccoglitore di ordini questo lo dico perché purtroppo è un messaggio che io cerco di far passare dai venditori dei nostri rivenditori che si occupano anche del settore alberghiero e che non capiscono ad esempio una cosa banalissima io quando parlo con le governanti e con le cameriere non faccio mai lasciare nel cestello dei prodotti non faccio mai lasciare il prodotto per la disincrostazione delle tazze del WC e uno mi potrebbe dire perché? perché ho visto più pavimenti rovinati io dal prodotto per le tazze del WC che tutti voi messi insieme perché poi cosa succede? che quando succede chiamano noi tecnici e ci dicono sai mi è caduto il prodotto per la tazza WC sul pavimento in marmo si è rovinato cosa succede? se si tratta del pavimento in marmo vabbè finché sia caduto così perché dice accidentalmente esatto prendono il prodotto del WC che dicono che è un anticalcare forte e iniziano a lavare le docce e iniziano a lavare le vasche cosa succede Roberto? è vero che si rovina la superficie? si rovinano le cromature dei robinetti il calcare si rovinano innanzitutto le cromature dei robinetti quindi i robinetti pian pianino cominciano a spellarsi viene fuori la parte sottostante alla crematura che è nera e quindi il robinetto poi è da prendere da buttare via ma non è solamente quello il problema il prodotto per la tazza del WC è un prodotto che è un formulato a base di acido cloridrico se cade sul marmo sul pavimento in marmo lo rovina ok? è ripristinabile sì certo c'è da fare un lavoro certosino bisogna organizzarlo però è ripristinabile il problema quando è prodotto dalla tazza del WC finisce sulla moquette eh sì la moquette si scolorisce si sbianca ma quella non la puoi non puoi andare col pennellino a ricolorarla quella devi tagliarla prendere il pezzo toglierla e metterla in un altro e molte volte le moquette agli alberghi tu mi insegni che quando le hanno posate le hanno posate i pezzi di ricambio e magari la pezza di ricambio è finita dentro in granaio sepolta da altri un altro milione di cose e non si può più fare niente quindi e questo è un aspetto puramente tecnico di utilizzo del prodotto ma poi c'è da un altro che è importante e poi lo snoccioleremo dopo partendo con le diapositive l'albergo è un ambiente pulito adesso qua mi arriveranno un milione di commenti a parte delle cameriere che diranno che non è vero l'albergo è un andare a pulire sul pulito è lo sporco di una due persone all'interno di una stanza che se sono delle persone normali ok è capitato a tutti di vedere stanze in condizioni disastrose ok lo sappiamo perfettamente ma nel 99% dei casi lavoriamo sul pulito la tazza del WC di una persona che è andata in quel bagno e che magari l'ha usata due o tre volte durante la fase di permanenza all'interno della stanza non ha bisogno tutti i giorni dell'acido cloridrico forte per la disincrostazione dell'interno della tazza lo posso fare tranquillamente con il prodotto a base di acido citrico e la disincrostazione la faccio una o due volte alla settimana in funzione di quanto è la durezza dell'acqua della struttura alberghiera quindi questo per dire che cosa che è la governante che deve decidere quando farà la disincrostazione delle tazze non la cameriera lo decide la governante è la governante che decide è la governante che devi formare le cameriere assolutamente sì possa aiutare ma per questo ci siete voi a capire sì siamo noi ragiona quando ci chiamano noi ci siamo ok perfetto vado avanti con le diapositive se no qua rimaniamo fermi sulla prima e parliamo se non andiamo avanti hai ragione ok va bene allora vediamo se riesco a muovermi da qua aspetta perché non andiamo avanti la diapositive tranquillo fermati lì allora l'immagine dell'albergo l'immagine dell'albergo è tutto l'albergo vive di immagine ok vive di quello che sono le sensazioni che prova il cliente quando oltrepassa la porta d'ingresso della struttura e le sensazioni possono essere le più disparate dal marketing olfattivo quindi da un profumo che sente nella hall dell'albergo che gli fa ricordare poi quel profumo ti viene in mente quando ritorni in struttura alberghiere che hanno la medesima profumazione all'interno della della hall ma anche dall'accoglienza che loro ricevono in reception quindi se voi prendete la customer satisfaction che c'è all'interno delle stanze dell'albergo normalmente le prime tre domande riguardano l'accoglienza quindi quello che è successo nel momento in cui voi siete entrati all'interno dell'albergo e vi trovate di fronte al bancone della reception e o al facchino l'ingresso che vi accompagna all'interno della stanza dopo queste tre domande partono le domande sulle camere e sulle pulizie allora mi sono divertito in questi giorni intanto che preparavo le slide e ho trovato questa indagine statistica interessante allora un aumento del 5% della fedeltà dei clienti può portare a un aumento dei profitti nell'ordine del 25% un cliente estremamente soddisfatto ha 6 volte di più la probabilità di diventare un cliente fedele e di raccomandare le strutture ad un cliente semplicemente soddisfatto è diversa la cosa non è la stessa cosa solo il 4% dei clienti insoddisfatti manifesta le proprie lamentere però che cosa succede che un cliente con un problema parla male dell'ambiente dove è stato giustamente non torna più e mediamente coinvolge almeno 9 persone se il cliente contrariamente un cliente è soddisfatto ne parla bene e coinvolge almeno 5 persone e qua ce ne sono già 4 di differenza che ballano 9 persone se parli male 5 persone se parli bene ok ora noi sappiamo tutti perfettamente che chi opera nel settore degli alberghi e si occupa delle pulizie della struttura alberghiera e del rifacimento delle camere ha un unico obiettivo e l'unico obiettivo che ha chi si occupa del rifacimento delle camere non è pulire bene la stanza attenzione non dimenticatevelo perché il vostro obiettivo non è la pulizia perfetta della camera il vostro obiettivo è la soddisfazione del cliente finale sono io cliente finale che do il giudizio se la camera è fatta bene o è fatta male non è la governante o il direttore dell'albergo la governante fa le valutazioni della stanza in funzione di quello che è la sua attività di lavoro se c'è qualcosa che non va ti chiama e te la farai fare ok il direttore se ogni tanto andassero a vedere qualche camera non lo fanno non lo fanno quasi mai ma se ogni tanto vanno a vedere qualche camera possono dare un giudizio per quello che è il loro pensiero della camera cioè di come loro vorrebbero che la camera fosse finita la cura dei dettagli tutto sistemato perfettamente la camera relativamente profumata non troppo perché profumo poi da fastidio alle persone e quant'altro il giudizio finale sul fatto che la camera sia accogliente pulita che l'immagine della stanza mi dia un senso di tranquillità e vedi scorrendo la dà solo ed esclusivamente il cliente finale quindi l'obiettivo di chi si occupa delle pulizie è lo stesso obiettivo del direttore dell'albergo questa è una cosa che va sottolineata ma va sottolineata molto perché molte volte ce lo dimentichiamo questo aspetto per arrivare a questo obiettivo dobbiamo sapere i passi che ci portano ad essere soddisfatti giusto? quindi in primis giusto corretto in primis è la scelta del prodotto del prodotto giusto che la fa la governante che la fa l'economo che la fa chi di dovere perché varie strutture lo gestiscono in maniera diversa però la prima cosa che va fatta è la scelta del prodotto io faccio un passo indietro parto un po' prima di te la prima cosa che la persona che si occupa del rifacimento camera o delle pulizie dell'albergo deve sapere è che deve conoscere lo sporco sì io faccio io faccio un passo per scegliere il prodotto bisogna conoscere lo sporco che va a pulire quindi era un po' sottointeso hai ragione io faccio un passo indietro ok perché prima ancora di sapere che cosa devo utilizzare per pulire devo sapere che cosa devo pulire ok allora sostanzialmente sono tre le tipologie di sporco che troviamo all'interno della stanza il 90% dello sporco che troviamo è di natura grassa quindi le impronte delle mani sopra i vetri gli specchi gli arredi e vedi scorrendo piuttosto che il calpestio dei piedi nudi sul pavimento piuttosto che i residui che lasciamo organici che si lasciano all'interno dei bagni lavandini piuttosto che tazze wc piuttosto che doccia quant'altro sono uno sporco di natura grassa ok poi c'è lo sporco di natura calcarea e quindi il calcare che c'è all'interno dell'acqua non è che lo portiamo il calcare nel bagno il calcare c'è perché c'è dentro l'acqua e ultimo e non ultimo e oggi purtroppo nell'ultimo anno e mezzo ne abbiamo ne abbiamo una riprova allucinante è il discorso legato ai microrganismi quindi conoscenza delle tipologie di superficie che devo pulire conoscenza della tipologia di sporco che devo andare a eliminare scelta corretta del prodotto chimico e degli strumenti che mi servono per poter fare il discorso delle pulizie suddividendo sempre le operazioni di natura giornaliera dall'operazione di pulizie delle pulizie periodiche che sono due cose distinte tra di loro cercando di fare in modo di non mescolarle mai quindi quello che tu dicevi prima del prodotto della tazza del WC che lo si utilizza per disincrostare i lavandini e le robinetterie no poi dopo roviniamo qualcos'altro per cui dobbiamo fare attenzione a questa cosa qua oggi il mercato delle pulizie soprattutto nel settore alberghiero ci porta a dover ragionare gioco forza su tutto ciò che riguarda il discorso del miglioramento e dell'impatto ambientale sono sempre di più le 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 strutture alberghiere che ci chiedono prodotti green prodotti colabel prodotti a base di tensiottivi vegetali con un basso impatto ambientale e vi discorrendo bene Arco la nostra azienda ha cominciato nel 2004 nel 2004 noi siamo stati la prima azienda a livello italiano e credo forse anche a livello europeo ad avere una linea completa di prodotti certificati col marchio colabel completa per me significa avere le 5 referenze di prodotto o 6 referenze di prodotto che mi servono per fare le pulizie giornaliere di un ambiente spolvero bagno pavimento tazza wc sgrassatore delle superfici ok questi sono i prodotti che sono di uso giornaliero noi siamo stati i primi in Italia e ripeto forse anche in Europa lasciando perdere le grandi case tipo Werner & Merckx che sono 30 o 40 anni che ormai lavorano su quel tipo di concetto ma loro proprio per un discorso di mentalità del luogo dove loro operano loro sono Nord Europa per cui hanno una visione dell'ambiente un po' diversa rispetto a quello che abbiamo noi noi ci siamo arrivati un po' dopo a questa cosa oggi ci stanno veramente martellando è diventata una richiesta quasi fissa il discorso di avere i prodotti a basso impatto ambientale ok poi magari nell'albergo ci sono perdite di ogni tipo dal punto di vista idraulico e dispersione di corrente elettrica e quant'altro però noi ci dicono vogliamo i prodotti ecolabili perché così diventiamo eco insomma scusa Roberto solo un'aggiunta a quello che stai dicendo che secondo me è importante perché queste indicazioni che stai dando appunto relativo al marchio ecolabile dicendo diciamo che oggi ci sono i CAM che sono i criteri ambientali che sono stati istituiti e già nella pubblica amministrazione adesso per gli appalti dovranno iniziare a prendere in considerazione queste cose e quindi è bene conoscere queste queste nuove diciamo normative ed approfondire appunto anche su tutte quelle che sono le certificazioni che ci sono poi attorno perché penso che presto arriveranno anche nel mondo dell'albergo perché poi c'è tutto l'aspetto appunto ambientale anche legato al tessile allo smaltimento e via dicendo che in Europa hanno appena firmato dei documenti 2020-2021 che andranno a regime nei prossimi 4-5 anni di conseguenza è bene parlare di queste cose e sapere che poi possono anche andare a guardare perché ci sono se ricercano criteri minimi ambientali i CAM troveranno poi tutte le indicazioni e l'evoluzione di quello che stai dicendo certo tra l'altro poi è appena uscito anche il nuovo decreto ministeriale del 21 di gennaio di quest'anno dove si punta proprio il mirino su quella cosa lì cioè sul discorso del miglioramento dell'impatto ambientale adesso nel discorso degli appalti pubblici ma poi l'appalto pubblico è trainante perché se lo fa l'appalto pubblico se lo fa la pubblica amministrazione a cascata lo fanno tutti dopo quindi cominciano loro ma poi a cascata arriveranno anche tutti gli altri gli alberghi forse anzi gli alberghi sicuramente hanno cominciato molto prima in questo tipo di ragionamento io servo una grande catena alberghiera italiana che già nel 2018 la presidenza di questa catena ha fatto una scelta anzi nel 2017 ha fatto una scelta molto importante molto significativa per quanto riguarda il discorso alberghiero togliendo tutte le amenities dall'albergo tutte ha cancellato tutto le catene le catene sono più avanti bisogna che essi uniformino a tutti anche gli alberghi e le strutture che magari non hanno non è una catena e che dietro ha una struttura anche per recepire un po' tutte queste informazioni è vero però tu sai benissimo Fabrizio che in molti casi l'amenity veniva utilizzato come traino pubblicitario mi portavo via il flaconcino dello shampoo dall'albergo e nell'albergo dopo mi ritrovo lo stesso flaconcino se no ce l'avevo a casa con scritto sul nome dell'hotel che magari poi mi ricordava il soggiorno in quella struttura e quant'altro oggi hanno messo i dispenser del bagno schiuma dello shampoo all'interno delle docce hanno messo i dispenser dei saponi nel lavandino hanno tolto le saponette e quant'altro sono non sono belle dipende io ho visto dosatori di prodotto molto interessanti e molto carini che fanno pandan con l'arredamento della camera come l'ho visto di quelli che non sono proponibili ma questo è un altro paio di mani che non c'entra niente è il concetto di quello che si vuole portare avanti io ti metto a disposizione uno shampoo e un bagno schiuma vegetale a Marche Colabel attraverso un sistema di dosaggio del prodotto che ti permette di usarne il giusto perché tu ti lavi ma poi non lo sprechi non lo muti via perché il resto rimane all'interno del flacone del contenitore del dosatore ed è la stessa cosa che noi stiamo facendo con i nostri prodotti cioè noi abbiamo fatto la linea dei prodotti a Marche Colabel ma non ci siamo fermati alla linea della Marche Colabel abbiamo allargato il discorso ok perché prima gli Colabel erano nati come prodotti pronto uso adesso abbiamo fatto i prodotti Colabel super concentrati da mettere all'interno di un distributore di prodotto che dà il prodotto in forma controllata quindi sono nate la linea dei prodotti Aladin Aladin Hotel adesso Aladin Eco che sono quelli che sono certificati Ecolabel e arriveranno perché ormai se ci fosse Barbara mi direbbe oh ma quando arrivano questi prodotti ormai è tanto che stiamo parlando di di probiotici sì sì tra l'altro i vostri sono partiti vi arriveranno vi arriveranno i campioni quindi così vi fate tutti i vostri test è un il prossimo il prossimo step il prossimo step sono i prodotti almeno nel centro alberghiero sono i prodotti a base di microorganismi ci arriveremo ciao Barbara eccola ciao Barbara buongiorno ciao ciao bene arrivata continuiamo con Barbara no prego io non ho seguito scusate ciao Barbara ciao e stavo dicendo abbiamo fatto questi prodotti super concentrati ma al prodotto super concentrato abbiamo giocoforza dovuto mettere anche l'erogatore del prodotto e quindi Arco ha puntato sul discorso dell'erogatore qualcuno di voi l'avrà già visto in qualche struttura alberghiera qualcuno l'ha vista sicuramente nelle negli open day che abbiamo fatto all'interno di varie strutture alberghiere che faremo all'interno di varie strutture alberghiere e questo è il sistema di dosaggio del prodotto controllato ha una bilancia per cui controlla l'erogazione a grammi del prodotto chimico all'interno della struttura alberghiera qui abbiamo azzerato gli sprechi ma azzerato completamente cioè qui gli sprechi non ci sono più quindi con questo con questo sistema ogni cameriera ogni ha l'accesso attraverso una sua chiavetta dove può il dosaggio giusto quindi non giocano più a piccolo chimico non fanno più i miscugli di quello che vogliono giusto? il piccolo chimico mi piace sempre tanto il piccolo chimico è una cosa molto bella interessante sai poi aggiungivano un po' di aceto un po' di questo perché lì li dà brillantezza li dà questo con l'altro e alla fine diventava veramente una bomba è la nostra è la nostra battaglia infinita noi che lavoriamo nel settore della chimica la nostra battaglia infinita è far capire alle persone che i prodotti non si mescolano per tutta una serie di motivi e quant'altro il primo perché mescolare due prodotti che sono in scala del pH opposti tra di loro i prodotti si neutralizzano ottengo una miscela che è semplicemente una miscela pericolosa per la salute delle persone e per la salute delle superfici su cui lo vado a posizionare perché poi posso andare a rovinare anche le superfici è una è una miscela pericolosa perché puoi emettere dei gas tossici e quindi può rovinare le vie respiratorie delle persone per cui mescolare non significa pulire meglio pulire o fare prima mescolare significa farsi del male quando ti fai del male col prodotto chimico vai all'ospedale non c'è una via di mezzo cioè non è che respiri i gas di acido e cloro mescolati insieme che è la cosa più banale del mondo per chiarire prodotto per la tazza del WC e candeggina ok rispettiamo ti aspettavamo a me è successo quando ero capoaria di avere gestivo l'acquisto dei prodotti quindi depennavo ogni richiesta di candeggina logicamente peccato io ero capoaria di un source peccato che l'albergo acquistava la candeggina e peccato che la governante dell'albergo la passasse alla governante dell'outsourcing che non seguiva le regole aziendali e una cameriera Giassenia chissà se ci segue Giassenia così può confermare nel caso Giassenia è svenuta in una doccia perché con il prodotto anticalcare spruzzato oltretutto versato in vetro quindi gocciolante si è miscelato alla candeggina che aveva messo dei bordi della doccia quindi Giassenia è finita al pronto soccorso quindi è pericoloso miscelare i prodotti non solo da quando c'è stata da quando ci sono le leggi sulla sicurezza qua ci vorrebbe Vladimiro a parlare di questa cosa qua se una persona finisce al pronto soccorso la prima cosa che fa il medico del pronto soccorso chiama i carabinieri di spettorato del lavoro perché devono capire che cosa oltre chiaramente a prendersi cura della persona che arriva se non è che lo lasciano lì morente e chiamano i carabinieri aspettano che arrivino i carabinieri di spettorato del lavoro il problema è che dopo i carabinieri di spettorato del lavoro vanno a fondo le cose e se le cose non sono andate secondo la legge poi fioccano multe a destra manca noi siamo stati fortunati perché Giassenia non ha denunciato la cosa non ha voluto esporre denunce e loro è andata bene è andata bene ecco se posso riallacciarmi un attimo a questo discorso che stai facendo tu Barbara vorrei anche mettere in evidenza un aspetto che ancora oggi continuo a vedere sul carrello delle cameriere e giuro che permettetemi il termine mi fa incazzare come una bestia ed è quello dei flaconi anonimi flaconi senza etichetta flaconi flaconi scritti con la biro con il pennerello tra l'altro in maniera anonima non so disincrostante per cosa neanche scrivere così ok una cosa che noi diciamo sempre e che io sottolineo perché lo faccio in maniera divertente ma semplicemente perché voglio far passare il messaggio in maniera leggera i flaconi che noi diamo alle cameriere hanno le etichette colorate ok e hanno dei testi non è che noi le facciamo così per far diventare più bella il flacone più bella la bottiglia lo facciamo perché partiamo sempre dal presupposto che qualcuno con l'etichetta lì la vada a leggere ok e sull'etichetta ci sono scritte le norme principali non c'è scritto non c'è la scheda di sicurezza del prodotto ci sono scritte le modalità d'uso le concentrazioni di prodotto come va diluito come non va diluito e vedi scorrendo se qualcuno ogni tanto si prendesse la briga di leggere l'etichetta del prodotto c'è una parolina sull'etichetta che si chiama PH in soluzione che ci farebbe già capire a cosa serve quel prodotto molte volte vengono utilizzati i prodotti per fare delle cose su cui non hanno nessun effetto ma semplicemente perché pensiamo che essendo un prodotto forte riesco a pulire tutto e mi riferisco agli acidi ok usiamo gli acidi gli acidi ovunque pensando che con gli acidi risolviamo tutti i problemi sì sì anche di rovinare delle superfici risolviamo ok allora se uno partisse dal presupposto e dicesse aspetta che guardo il PH del prodotto e se trovo un PH che è inferiore a 6 so che è un prodotto a base acida e se trovo un PH che è superiore all'8 al 9 è un prodotto a base alcalina quindi è uno sgrassante più o meno forte e tutto quello che c'è lì in mezzo è un prodotto a base neutra forse un po' di risposte me le do ancora prima di cominciare ad usare il prodotto allora il prodotto con un PH acido mi serve per eliminare il calcare un prodotto sgrassante mi serve per eliminare il grasso dalle superfici le impronte delle mani le creme e vi discorrendo è inutile che ci vado con un prodotto a base acida per andare a togliere l'impronte dal vetro o dallo specchio non serve a nulla come non serve a nulla andare a togliere il calcare col prodotto sgrassante a meno che non sia un formulato preparato per fare quel tipo di attività e questa cosa qui c'è sull'etichetta non è che uno deve andare a prendere internet andare a leggere su internet cosa fa quel prodotto lì basta leggere l'etichetta sono belle sono carine magari se qualche volta le leggete deduco che durante la mia assenza avete parlato del PH dei prodotti abbiamo parlato di tante cose Barbara perché il PH dei prodotti è basilare conoscerlo purtroppo però molte molte persone che utilizzano prodotti chimici non lo conoscono nonostante se ne parli nonostante è un anno che rompiamo le scatole a tutti quanti queste dirette però effettivamente non sanno leggere l'etichetta prescindere che non la leggo non la leggo esatto esatto basterebbe imparare a leggere il PH è la scala del PH è così è così basilare che bisognerebbe effettivamente conoscere tutti che davvero potremmo scegliere il prodotto senza starliero per le scatole al fornitore perché dalle schede sappiamo cosa ci serve esatto esattamente leggetele ogni tanto leggetele le etichette le abbiamo fatte apposta le abbiamo fatte apposta perché qualcuno le legga che sennò non servono assolutamente a nulla ok allora che cosa fa il sistema Aladdin sostanzialmente il sistema Aladdin pesa pesa attraverso la sua bilancia pesa il contenuto che c'è all'interno del flacone e eroga il prodotto in funzione di quello che c'è al suo interno cioè se il flacone è vuoto ala di far riempimento di tutto il flacone se il flacone è a metà ala di far riempimento di metà flacone mettendo dentro però in quota parte la percentuale corretta di acqua e di materia prima che serve per fare il flacone nella soluzione corretta è giusta però da utilizzare sulle superfici che poi io devo andare a pulire per cui c'è questa particolarità in più ne controllo i consumi quindi io all'interno del software della macchina posso anche andare a verificare quali sono stati i consumi giornalieri settimanali mensili e annuali della struttura alberghiera che poi io li vado da qui che si evitano i sprechi giusto quindi li azzerriamo cosa spruzzano e dove li azzerriamo li azzerriamo completamente gli sprechi li azzerriamo perché se ne usano troppo interveniamo subito come se ne usano poco interveniamo perché usarne troppo usarne troppo poco è la stessa cosa da una parte mi creo sporco residuo mi creo residuo sulle superfici dall'altra parte non le pulisco per cui devo intervenire devo cercare di sistemare le cose questa è una cosa che fa la governante con le sue assistenti sono loro quelle che devono verificare l'utilizzo corretto del prodotto cioè se io ti do un flacone da 600 ml di prodotto pronto all'uso che ho diluito attraverso il sistema Aladin e ti dico guarda quel prodotto lì ci devi fare una giornata di bagni se tu arrivi e me ne porti metà io i tuoi bagni li vado a ricontrollare tutti dal primo all'ultimo difatti con questo sistema anzi senza questo sistema perché all'epoca non esisteva però il controllo del flacone a prescindere ci deve essere io mi resi conto quando ero governante dove siamo stati stamattina che avevo un consumo troppo basso di prodotto per il bagno che tra l'altro era sempre del marco mentre c'era un consumo smisurato di prodotti per lo spolvero al che ho detto ok come faccio a sapere chi delle 43 cameriere che erano tanti da lì ho numerato i flaconi i cestini ho dato il numero ogni persona aveva un numero quindi codificato dalla 1 a 43 e ognuno di loro aveva i prodotti le attrezzature il carrello bla 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 tutto numerato ognuno usava quel numero e ho potuto risalire ci è voluto dei giorni comunque per riuscire a studiare bene la situazione perché non te la inventi così però sono risalita quelle che erano nei cameriere che non lavavano il bagno ma lo spolveravano quindi è stato semplice poi gestirlo a maggior ragione con un utilizzo del genere dove tu sai che c'è un peso specifico e sai che il prodotto va utilizzato in un certo modo c'è un determinato consumo magari ricordami se sbaglio Roberto credo che ci sia la possibilità con Aladin di avere un page personale per ogni cameriera esatto esatto quindi ogni persona può essere tra virgolette può essere monitorato il consumo del prodotto per ogni persona e quindi non si cazza ma si corregge il malutilizzo del prodotto diciamo che Aladin permette di poter essere utilizzato in diversi sistemi possiamo dare il badge a ogni operatore quindi ogni cameriera e ogni cameriera si preleva e si prepara i propri flaconi per andare a lavorare oppure come succede in molte strutture diamo il badge alla governante che poi lo dico di sua spontanea volontà lo dà alla guardia che è quella che prepara i cestini per tutti ok se la guardia è una guardia attenta se ne accorge e segnala e segnala io ho avuto strutture alberghiere dove usavano metà flacone di prodotto per il bagno e però pulivano 18 bagni poi ho scoperto che l'altra metà dei bagni la pulivano con il con il flaconcino dello shampoo per fare tra virgolette un favore al datore di lavoro che ovviamente non gli aveva chiesto poi dopo c'è stato c'è stato un paio di persone di cui una è quella che vi fare l'altra è collegata con noi che sono dovuti smazzare il problema per andare a capire come togliere e ricalcare dai vetri delle docce e beh dopo arrivano poi ti chiamano ti dicono scusa però è successo questo che faccio adesso tutti i vetri macchiati è colpa del prodotto troppo facile è sempre il prodotto che non funziona ovviamente è sempre colpa nostra sempre ma scherzi ok va bene lascia stare che è meglio se no ci sarebbe da parlare troppo una cosa interessante che fa il sistema aladine è questa i prodotti super concentrati in tannica quindi le tanniche che poi vengono allocate dentro al box di contenimento delle tanniche portano tutti una simbologia di pericolo simbologia di pericolo per quale motivo perché il prodotto super concentrato lo dice la parola stessa ha una concentrazione di materie prime molto alta al suo interno perché poi viene diluito nel flacone attraverso questo tipo di sistema di dosaggio l'etichettatura di pericolosità del prodotto oggi ormai da qualche anno la verità non è più manipolabile mi spiego meglio fino a qualche anno fa l'etichettatura del prodotto era manipolabile da parte dei chimici in laboratorio ok che ne so si faceva il formulato il prodotto usciva come un prodotto corrosivo il prodotto corrosivo è più difficile da vendere rispetto a un prodotto irritante si cambiava l'etichettatura si faceva diventare irritante e si cambiava semplicemente il pittogramma siamo stati veramente veramente fuori oggi questa operazione qua non si può più fare perché i sistemi sono bloccati quindi nel momento in cui io inserisco il formulato all'interno del mio software in laboratorio il prodotto viene automaticamente viene etichettato dal software quindi e non è più manipolabile quello è quello rimane il vantaggio che dà Aldin qual è? che io passo lo vedete nella diapositiva nella parte alta si vedono le tanniche di fianco si vede l'etichettatore del prodotto corrosivo ok e la zona la fascia rossa di fianco che indica la pericolosità del prodotto se guardiamo sotto dove ci sono i flaconi è sparita l'etichettatura del prodotto corrosivo e i flaconi sono stati messi dalla mia collega nella fascia verde perché il prodotto perde la sua pericolosità non perde di efficacia attenzione non perde di efficacia ma perde la sua pericolosità perché la quantità di materia prima è decisamente inferiore rispetto quella della tannica del prodotto superconcentrato questo è un altro aspetto molto importante perché dà valenza al fatto che noi diciamo che abbiamo azzerato anche il rischio chimico con l'utilizzo del sistema Aladin perché la manipolazione delle tanniche viene fatta da una persona incaricata e non da tutti la diluizione viene fatta attraverso una macchina che ti dà prodotto che perde l'etichettatore di pericolosità e questo è un grandissimo vantaggio soprattutto come diceva prima Fabrizio oggi anche nei termini dei CAM 2.0 per quanto riguarda la pubblica amministrazione che ci sta chiedendo queste cose per cui noi fortunatamente ce l'abbiamo già e siamo già pronti dove lo possiamo mettere in varie tipologie di ambienti e quant'altro ovviamente noi stiamo qua parlando di alberghi per cui ci soffermiamo sul discorso delle strutture alberghiere ma in realtà lo possiamo mettere ovunque per quanto riguarda il settore alberghiero ecco la gamma di prodotti che abbiamo fatto adesso poi ci entriamo una a una ve le spiego in maniera anche abbastanza veloce perché qua il tempo vola non passa vola allora abbiamo fatto la linea ala di notè la linea ala di neco e faremo faremo li stiamo aspettando siamo ancora in attesa Barbara sono già partiti i vostri campioni ma non dovevi mandare sono già partiti ah li hai già spediti li hai già spediti prima della diretta ok ok vedi Cornelia che io lo sapevo che io sapevo che mi avrebbe ripreso l'ha fatto apposta prima della diretta allora la linea ala di notè 4 formulati prodotto per i pavimenti ala di nono prodotto per i pavimenti prodotto neutro ala di in tre è un prodotto per lo spolvero delle superfici arredi vetri specchi che più in ampio ne metto ala di in quattro due versioni l'ala di in quattro hotel che è un detergente manutentore a base di acido citrico acido citrico è quello che deriva dagli agrumi quindi che non rovina le superfici e neanche le cromature oppure per gli ambienti o gli alberghi dove hanno i bagni e quindi i top dei bagni e quant'altro in marmo abbiamo fatto un prodotto alcalino per l'eliminazione del calcare all'interno dell'ambiente bagno che uno mi potrebbe dire ma perché un alcalino che va a togliere il calcare perché abbiamo messo dentro delle materie prime che si chiamano sequestranti che servono per togliere e staccare il calcare dalle superfici quindi abbiamo due formulazioni diverse del prodotto per il bagno che scegliamo noi quando andiamo a fare il sopralluogo della struttura perché in base alla tipologia degli arredi del bagno e anche in base alla tipologia degli arredi della camera per quanto riguarda i prodotti decidiamo che cosa consigliare o che cosa suggerire ok l'utilizzo dei prodotti è un utilizzo semplice il pH che voi vedete scritto nella seconda riga della tabella dove c'è la descrizione trattasi del pH del prodotto puro dentro la tannica super concentrata ok quando il prodotto viene diluito tutti i prodotti rientrano quantomeno l'1 e il 3 rientrano in una fascia di neutralità che per noi è compresa tra 6 e l'8 ok rimane a pH un po' più dell'1 il prodotto base acida perché contiene l'acido citrico quindi quello è e rimane il pH 9,90 per il prodotto alcalino perché ha bisogno comunque di una parte sgrassante di prodotto per fare quel tipo di operazione l'utilizzo l'applicazione è quella tradizionale che ormai fanno più o meno tutti attrezzatura per lavare i pavimenti io qui non entro nei meriti di quelli che lo fanno con lo straccio di quelli che lo fanno col mocio di quelli che lo fanno col preimpregnato di quelli con la frangia e vi discorrendo perché ne discuto sempre quando sono negli alberghi di questa cosa qua non posso farlo in una diretta perché se no stiamo qua tre ore a parlare solo di queste cose qua e panni in microfibra avete parlato abbiamo già fatto la diretta con Max per cui ne abbiamo parlato abbondantemente delle tipologie dei panni che si usano all'interno delle strutture alberghiere la seconda linea di prodotto sono i prodotti a marca Ecolabel che sono usciti da poco quindi sono gli stessi prodotti di cui vi abbiamo parlato prima però con la certificazione Ecolabel e quindi una valenza per quanto riguarda il discorso del miglioramento dell'impatto ambientale e qui abbiamo l'uno il tre il quattro quindi uno pavimenti tre il prodotto per lo spolvero quattro il prodotto per il bagno o apro una piccola parentesi sul prodotto Ecolabel e la parentese è questa e prendiamo un prodotto da pavimenti tradizionale ok per fare un prodotto per pavimenti di gamma tradizionale quindi quello che si compra e che vendiamo un po' tutti quindi non a Marche Ecolabel in genere in genere si utilizzano cinque materie prime tratti ciottivi profumi acqua e vi discorrendo ok per fare lo stesso prodotto a Marche Ecolabel noi ne utilizziamo diciannove no mi rizzica perché la normativa Ecolabel sulla produzione dei detergenti è molto ma molto ma molto restrittiva perché la scelta delle materie prime deve essere fatta in funzione di quello che è il loro impatto ambientale quando io lo vado a utilizzare e quindi sono prodotti che hanno una composizione un formulato che impegnativo da fare cioè lo studio è stato uno studio molto lungo quando allora c'era ancora il dottor Bianchini che adesso non lavora più con noi ma che se ci sta ascoltando lo saluto con grande piacere perché è un grande amico quando il dottor Bianchini ha fatto i formulati dei prodotti Ecolabel prima di arrivare alla formula finale io credo che per fare il prodotto per lo spolvero quindi il multiuso io credo che l'abbia cambiato una ventina di volte il formulato perché lo faceva lo mandava al comitato collabili a Bruxelles ci ritornava indietro non andava bene lo rifacciamo lo mandavamo a Bruxelles tornando indietro non andava bene poi per fortuna il percorso si è accorciato e scusa ti faccio una domanda sì ti faccio una domanda se nel classico ci sono tre elementi mi hai detto sì quattro e cinque ok quattro e cinque in questo ce ne sono undici nella mia ignorante no sì più prodotti più più miscele non è più inquinante no no e ti spiego per quale motivo perché non sono le stesse materie prime cioè paradossalmente se io faccio un prodotto da pavimenti e prendo due tensiattivi chimici per fare questa cosa qua per fare questo prodotto per fare un prodotto collable ne devo usare che ne so sei sette tensiattivi naturali ah e quindi cambia cambia completamente il formulato se in uno metto dentro che ne so il dico un numero prendetelo con le pinze la cosa se in uno metto dentro il 10% di profumo nel prodotto marchio collable che vi è etichettato collable ce ne metto lo 0,01 ok se nel prodotto chimico tradizionale ci metto dentro che ne so il 10% di potassa perché mi serve un prodotto sgrassante molto energico il prodotto marchio collable per raggiungere quel 10% di potassa ci metto dentro sei materie prime diverse per ottenere lo stesso risultato ma con materie prime che siano di natura che abbiano caratteristiche ambientali che sono una cosa completamente diversa la linea eco di arco per quanto riguarda la linea aladin esce in flaconi che sono in plastica riciclata al 100% sono le tanniche sono grigie i flaconi sono grigi serigrafati in maniera corretta ma sono grigi perché la plastica riciclata ti porta ad avere un colore di quel tipo lì stiamo lavorando per vedere se possiamo fare i prodotti in plastica con della plastica riciclata trasparente ma c'è il problema che poi emette cattivi odori quindi dobbiamo compensare il fatto del prodotto con poco profumo con zero profumo a un flacone che può avere un cattivo odore quindi dobbiamo cercare di capire come ci possiamo muovere i prodotti a marca Colabel hanno pochissimo profumo sono quasi in odore questo questo per scelta del comitato Colabel ok bene vado avanti applicazione del prodotto vedete anche qui ci sono i pH anche qui i pH sono riferiti al prodotto in tannica super concentrata e quant'altro ci stiamo arrivando ho scritto next step perché abbiamo già anche tracciato la strada vedi che abbiamo fatto anche la stradina in alto con i due alberelli stiamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando sì ne abbiamo parlato anche poco tempo fa con Luca con l'amministratore delegato di questa cosa stiamo arrivando i test stanno andando molto 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 bene poi li testo anch'io e quindi voglio adesso ti arriveranno voglio che li testi anche tu sono prodotti a base di microorganismi per chi come me lavora nel settore del cleaning non solo una novità io e Franco Silvestrin di prodotti probiotici secondo me sarà dieci anni più o meno che ne parliamo lui tra l'altro ha fatto anche dei test molto significativi per le aziende che lavorava prima e quant'altro io ci sono dovuto arrivare per gradi perché io lavoro per un'azienda che produce chimici per cui parlare con un produttore di chimici di prodotti a base di microorganismi gli viene male perché è una cosa che è un po' al di fuori del concetto di chi produce detergenti chimici e lo dico con Luca che mi sta seguendo per cui ciao Luca lo dico con ragione di causa perché mi sta seguendo su Facebook si sta seguendo su Facebook il discorso del probiotico per chi fa chimico tradizionale è un po' una bestemmia tra virgolette però siamo con quanto fuori eh sì però sai siamo altrettanto consapevoli del fatto che il mondo delle pulizie stiamo andando lì cioè l'imbuto la disesa che sta facendo un imbuto sta arrivando lì per cui cominciare a lavorare su questa tipologia di prodotti è un è un modo di dire abbiamo una visione rivolta al futuro di un certo tipo per quanto riguarda il discorso del miglioramento dell'impatto ambientale e questo arco lo fa dal 2004 e questa è una delle cose nuove su cui stiamo lavorando e non è diciamo che non è stato semplice non è stato un percorso facile io e te e Barbara sono quasi un anno e mezzo che ne parliamo di questa cosa forse anche due non è stato un percorso semplice per un motivo per un motivo chiaro in primi perché dovevo vincere un po' la diffidenza di chi è a capo di questa azienda perché ripeto è comunque alla fine un un produttore di chimico e ne ha tutte le ragioni ad essere un po' restio a questo tipo di prodotti e poi perché devi trovare il partner giusto cioè noi noi non produciamo non produciamo prodotti probiotici a base di microrganismi non abbiamo la struttura improntata per quel tipo di prodotto che è lì noi prodotti probiotici li dobbiamo importare li dobbiamo comprare li dobbiamo mettere a posto nei formulati per quello che è il nostro obiettivo e poi li dobbiamo etichettare e far uscire il nostro nome è stata una scelta difficile perché ce ne sono tanti sul mercato ma che ti danno la certezza dei risultati ce ne sono pochi noi abbiamo trovato questa azienda che è un'azienda canadese che ha dei prodotti che sono straordinari veramente io quando ne parlavo con Luca di queste cose gli ho detto io sono rimasto bocca aperta io gli ho detto chi dice dimmi ma la mia domanda questi prodotti probiotici che stanno arrivando come li possiamo utilizzare nelle nostre cucine dei ristoranti li possiamo utilizzare innanzitutto diluendoli bene quindi facendo la giusta diluizione del prodotto noi non a caso l'abbiamo chiamata Aladdin probiotic la linea perché noi il prodotto probiotico lo diluiamo attraverso il sistema Aladdin perché abbiamo la garanzia e la certezza delle grammature di prodotto che mettiamo all'interno del flacone perché questi prodotti qua hanno una caratteristica che lavorano in continuazione se io se io lo prendo e lo uso in cucina lui non si ferma mai cioè lui continua a fare il suo lavoro perché il microorganismo vive e lavora in presenza di sporco e di umidità e nelle cucine di sporco e di umidità ce n'è tanto infatti perché la cucina è un luogo dove il grasso è una cosa molto è più difficile trovare è più difficile trovare il prodotto per l'eliminazione del calcare probiotico anzi non esiste il prodotto probiotico per l'eliminazione del calcare perché il microorganismo sullo sporco inorganico non fa nulla non fa il suo lavoro non a caso il prodotto della linea probiotica che abbiamo che stiamo testando il prodotto per la pulizia del bagno è un prodotto a base di acido lattico quindi ha già una base acida organica ma ha una base acida al suo interno ok dal prodotto per la pulizia per lo spolvero dei vetri degli specchi e quant'altro in poi hanno degli effetti che sono straordinari io ho provato personalmente sono andato nell'officina meccanica di un mio amico che lavora il ferro lui fa il carpintiere gli ho ripulito un tavolo di lavoro con un prodotto a base probiotica che lui mi ha detto io neanche quando era nuovo l'ho visto così pulito ma semplicemente perché loro continuano a mangiare dove c'è il grasso e lo sporco vanno a nozze è il loro ambiente naturale loro lì lavorano in continuazione quindi sarà facile utilizzarli anche nelle pulizie straordinarie non sì sì perché perché contrariamente a quello che pensavo io ad esempio anni fa che pensavo che fossero prodotti per le pulizie solamente ordinarie ho scoperto di questa azienda dei prodotti per le pulizie straordinarie quindi le pulizie toste quelle io ho provato personalmente uno di questi prodotti in una cucina di un ristorante e vi posso garantire che i risultati sono spettacolari spettacolari sto aspettando adesso che mi arrivi tutta la documentazione per dei test che abbiamo fatto in un centro di preparazione pasti in Svizzera dove abbiamo insieme con questi colleghi di questa azienda abbiamo attaccato un sistema di nebulizzazione del prodotto all'interno delle cappe ok quando l'abbiamo attaccato le cappe erano in condizioni disastrose loro hanno fatto anche le foto per cui poi quando arriveranno ve le farò vedere e quant'altro e dopo poco tempo facendo questa micro nebulizzazione ogni tanto dei microorganismi all'interno delle cappe le cappe si sono punite si vede l'acciaio adesso cosa che prima era c'è una domanda sì non mi ricordo il nome Vittorio forse si chiama di Arcovaleno adesso non mi ricordo il nome della persona vanno bene anche per le superfici dove lavorano genere alimentari assolutamente sì sono microorganismi io direi di sì perché comunque il microorganismo non è dannoso alla salute quello effettivo non è il patogeno sono quelli sono quelli buoni sono quelli buoni sono i microorganismi buoni quindi sì assolutamente sì non stiamo qua adesso divagare su quello che sono i microorganismi buoni e quelli cattivi però sono quelli buoni i cattivi noi lavoriamo con i buoni i cattivi li abbattiamo ciao Jean-Claude non ti ho ancora salutato i cattivi i cattivi Barbara li abbattiamo con questo perfetto cascato a fagiolo allora faccio un piccolo escursus veloce su quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo 22 febbraio 2020 circolare numero 5443 del Ministero della Salute consigliava per il contenimento e sottolino per il contenimento della pandemia del covid-19 l'utilizzo di ipoclorito di sodio dallo 0,1 allo 0,5% per ossido di idrogeno allo 0,5% e alcol almeno tra il 70 al 78% ok e non la candeggina e non la candeggina ok siamo è passato un anno e mezzo quasi e siamo ancora lì ok la differenza quando c'è stata la differenza c'è stata il il rapporto dell'ISS dell'Istituto Superiore di Sanità del 14 di maggio del 2020 che ha sdoganato l'utilizzo dei persedi medici chirurgici purché questi persedi medici chirurgici rispondessero ad alcune normative di riferimento una delle normative di riferimento è quella dell'attività virucida ed è la UNIN 14476 che certifica l'attività virucida del prodotto disinfettante noi ce lo siamo noi disinfettante ce l'avevamo già in casa perché il GESA ce l'avevamo già ce lo siamo ritrovati come prodotto che era perfetto per il discorso dell'attività che doveva svolgere la disinfezione peraltro sendo un prodotto che non ha nessuno dei tre principi attivi al suo interno che abbiamo nominato prima ha una caratteristica che non rovina le superfici nemmeno i tessili non rovina gli imbottiti non rovina i tessili non rovina le tende non le macchia il prodotto è in colore in odore e quant'altro ha una una forte azione disinfettante sulle superfici rispondendo alle normative che dicevamo prima quindi noi ci siamo ritrovati in casa il prodotto che abbiamo consigliato immediatamente dopo l'uscita di questo protocollo dell'istituto superiore di sanità a proporre tutte le strutture alberghiere tutte tutti i nostri clienti che hanno alberghi che hanno avuto necessità di disinfettante noi abbiamo consigliato a tutti questo prodotto ed è andato benissimo tra l'altro perché abbiamo venduto veramente tanto ma tanto tanto ok Roberto Vittorio ci sta chiedendo quindi tipo prodotti HACCP stiamo parlando stiamo parlando di quelli probiotici sì 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 ce n'è uno che si chiama Olin adesso non mi ricordo il nome la scritta del nome in inglese non me la ricordo perfettamente dove c'è scritto che risponde alle norme dell'HACCP per cui è un prodotto nato per quello sono prodotti che hanno pochissimo profumo anche questo anche questi sono come i prodotti Ecolabel sono tutti certificati Ecolabel tutti dal primo all'ultimo e hanno dentro pochissimo profumo spiegaci perché non c'è il profumo perché il profumo è altamente inquinante la molecola del profumo è inquinante inquinante nei prodotti eco soprattutto sostenibili esatto soprattutto per chi come noi come noi come Arco utilizza delle essenze cosmetiche ok non è una differenza sottile attenzione perché la stragrande maggioranza dei produttori di detergenti che ci sono sul mercato utilizzano delle essenze chimiche per profumare i prodotti per dare il profumo al prodotto Arco ha fatto una scelta da sempre perché l'ha fatta dal principio Luca in questa cosa è stato bravissimo Arco ha scelto le essenze cosmetiche quindi le stesse essenze che si utilizzano per fare i profumi che poi noi ci diamo addosso ok ci speciabolizziamo addosso noi li utilizziamo per fare i prodotti quindi abbiamo con meno profumo una un'intensità di profumazione di residuo di profumo all'interno dell'ambiente molto più elevata quindi usiamo meno molecole di profumo ma otteniamo un grande risultato come profumazione degli ambienti ok il percorso dell'ecolab è esattamente il contrario ecolab addirittura nell'ultima nell'ultimo decreto ministeriale che nominavo prima che è quello del 21 di gennaio del 2021 gli ha tolti i profumi cioè addirittura ti dicono prodotti a marca collab è il meglio se non profumati sì sì ok quindi c'è proprio un percorso a ritroso per quanto riguarda il discorso delle molecole profumate perché si preferisce non immetterle negli ambienti ok Roby dimmi io non ho seguito la diretta non so di cosa avete parlato mi guarderò dopo la registrazione sul mio sito www.scapeinfoglio.it il mio carissimo Filippo ci metterà subito dopo la diretta quindi non so di che cosa avete parlato quali argomenti avete trattato però sono le 18.42 dobbiamo string lo so quando tu mi hai detto Roby ho guardato l'orologio subito perché lo sapevo vado vado molto allora vado velocissimo perché ho tre slide da presentare quindi vado veloce perché poi se hai qualche domanda no no tranquilla tranquilla allora prodotti per le pulizioni delle cucine non 200 non 200 prodotti due un buon prodotto sgrassante per le superfici della cucina che possa andare bene sia per le superfici dei piani di lavoro sia per quanto riguarda il discorso della pavimentazione è un prodotto a base acida che ci permette di fare la disincrostazione delle superfici e dei bollitori dei cuocipasta per togliere ed andare a eliminare la parte del calcare ok poi ci sono qualche c'è qualche prodotto di nicchia quello per la pulizia dei forni o delle greglie di cottura ma sono nicchie sono nicchie c'è la maggior parte delle pulizie di una cucina con un buon prodotto sgrassante formulato per fare quel tipo di attività io faccio tutto poi se devo andare a eliminare il calcare del bollitore perché sono 20 giorni che cuocio della pasta e non ho ancora disincrostato il bollitore faccio la mia pulizia di fondo del bollitore del cuocipasta e riporto tutto a zero e sono a posto ma quello che è importante è trovare focalizzare l'attenzione su un buon prodotto per le superfici che vada bene anche sui pavimenti quindi io con un prodotto faccio tutto noi ne abbiamo fatto uno che è particolarmente efficace che si chiama Aladdin 1 Food lo posso diluire in due maniere diverse quindi posso preparare il flacone per le superfici sopra pavimenti oppure il dosaggio per il secchio dell'acqua piuttosto che la lavasciuga o il tipo di sistema di lavaggio che ho per la pavimentazione senti glielo diciamo che non devono lavare la cucina con l'acqua e la cucina mamma mia glielo diciamo perché quando io entro nei ristoranti degli alberghi perché quelli poi vabbè Cornelia vi racconterà un episodio in un ristorante pizzeria dove siamo andati a fare formazione ma quando vado negli alberghi dentro il fine a me viene da piangere perché il pavimento lo lavano o meglio lo finiscono di sporcare con la candeggina glielo vuoi spiegare tu? Perché no? Perché la candeggina non pulisce perché la candeggina non pulisce abbiamo sbiancato abbiamo sbiancato lo sporco ma lo sporco è rimasto lì e allora la materia prima allora diciamo il componente principale per staccare lo sporco dalle superfici e le molecole dello sporco si chiama tensioattivo se io non ci metto i tensioattivi in un prodotto il prodotto non pulisce non stacca lo sporco ok? Nella candeggina i tensioattivi non ce n'è neanche uno altrimenti non costerebbe 3 centesimi al litro ok? Allora se io penso di andare a lavare una superficie utilizzando solo della candeggina sciolta in acqua miscelata con l'acqua è come se prendessi un pennello di colore bianco vado sopra la macchia dello sporco gli do una pennellata di colore e a vista agli occhi il pavimento mi risulta pulito ma in realtà lo sporco è ancora lì e ricordiamoci che dove c'è sporco ci sono microrganismi è vero che ho una patogeni patogeni quelli cattivi allora la candeggina va bene va bene a fare qualcosa aspetta ci devo pensare perché cosa sei per me per me io allora io io apro apro una parentesi io a casa mia ho perso la battaglia con la candeggina dopo che senso tua moglie insiste vengo io eh no no ma io dopo io dopo vent'anni ho detto fai quello che vuoi è lo stesso c'è tanto no ti prego ti prego alla fine no ma Giorgia chi usa la candeggina Barbara allora nel domestico nel domestico a casa propria se la devi utilizzare per sbiancare un po' i panni perché c'hai figli che camminano con le calze bianche a piedi nudi fuori nel dialetto di casa e rientrano le calze sono nere ok le metti in ammollo con fai in ammollo con un po' di detersivo se vuoi mettere un goccino di candeggina per sbiancarle ci sta ma chi pulisce non è la candeggina ma chi pulisce il detersivo ok non la concepisco nelle operazioni di pulizia soprattutto in un ambiente alberghiero dove le superfici che andate a pulire sono superfici delicate sono superfici delicate e partendo da questo ricordatevi sempre perché l'ipocolorito di sodio quindi il cloro che c'è dentro alla candeggina quel poco che ci mettono è una materia prima ossidante quindi lavora per ossidazione d'accordo? dimmi Cornelia no no niente stavo ascoltando stavo leggendo una domanda leggevamo le domande sempre Vittorio che ci fa una domanda e dice però ci sono anzi ci chiede il perché di alcuni clienti che vogliono fare le pulizie degli arredi e cucina solo con vapore io qui non darei una risposta che il 27 giugno alle ore 18 e 30 avremo con noi Stefano Fornoni che ci spiega il vapore che cos'è la macchina a vapore quindi eventualmente vogliamo parlare di questo perché io l'unica cosa che posso dire è che tu però puoi rispondere e di la tua sì no no io la cosa che posso dire è questa che l'acqua calda dà una mano l'acqua calda soprattutto sicuramente nell'ambiente cucina dove c'è particolarmente sporco e particolarmente sporco grasso avere la possibilità di utilizzare dell'acqua calda per fare le pulizie aiuta il prodotto a lavorare meglio e a lavorare prima ok poi io non entro nei meriti perché non è materia di mia competenza non voglio entrare in argomenti che trattano i colleghi non mi interessa sicuramente l'acqua calda se ci fosse sempre la possibilità di usare l'acqua calda nelle pulizie sarebbe meglio è che questo non è che succede tutte le volte in cucina sì probabilmente parla della macchina a vapore quindi è probabile che non so se una macchina a vapore possa pulire definitivamente senza un prodotto chimico quindi io lascio veramente la domanda aperta al 27 giugno quindi Vittorio ricordati 27 giugno alle 18 e 13 sono fornone rispondere alla tua domanda quindi non mancare perché effettivamente io ho scoperto cose delle macchine a vapore che ignoravo pur avendo usata tantissimi anni quindi certe domande ci facciamo rispondere da lui nel mio pensiero da ignorante probabilmente nonostante la macchina a vapore soprattutto nella cucina secondo me serve lo stesso un prodotto perché nella mia testa c'è il fatto che il grasso appiccicoso che c'è in una cucina sì verrà via sicuramente ci aiuta a scioglierlo ma secondo me rimane la patina di un poi magari no lo scopriremo anche diciamo che se gli diamo una mano col chimico meglio secondo me serve sempre un po' di chimico di probiotico vediamo poi adesso ok esatto 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 il sistema Aladdin è funzionale anche perché ha dei flaconi che sono serigrafati non ci sono delle etichette adesive ma ci sono dei flaconi serigrafati e è un prodotto igienizzante è uno dei prodotti che abbiamo infatti mi manca stavo guardando quelli che io adesso vado in cantina noi ci concentriamo sull'uno sul tre sul quattro sul Jason che sono i prodotti che e il cinque forse ce l'ho ma il tuo devo verificare verifica magari ce l'hai giù non l'hai ancora visto magari ce l'hai non me lo ricordo tu verifica bene vedrai che lo trovi abbiamo fatto voglio presentarvi questa simulazione dell'utilizzo del sistema Aladdin ve la spiego molto velocemente perché è una simulazione di un cantiere di 5.000 metri quadri con pulizie ordinarie cinque giorni alla settimana quindi pavimenti a re di bagno e anche utilizzo di una macchina lavassuga vi riporto l'attenzione sulle ultime due righe in fondo su quella cosa cerchiata che parla dell'ottanta per cento di plastica in meno utilizzata e di un abbattimento della plastica da 270 tanniche da 260 tanniche di prodotto da 5 chili a 50 bellissimo con flaconi con flaconi riciclabili riutilizzabili anzi scusate questo è questa è una cosa molto significativa tradotto poi questa è una cosa che noi facciamo quando installiamo il sistema Aladin soprattutto nell'ambito del miglioramento dell'impatto ambientale in questi numeri quindi lo stesso cantiere diciamo così da 5.000 metri quadri in un anno produce una riduzione di consumi elettrici 0,64 kilowatt perché la macchina funziona 24 volt quindi è un consumo che è bassissimo una riduzione di emissioni di CO2 quindi di energia carbonica nell'aria di 60,48 grammi vuol dire che facciamo meno consegne e quindi c'è meno energia carbonica che viene immessa giusto 100,6 litri di acqua in meno utilizzata sia in fase di produzione che in fase di utilizzo 12 kg di cartoni in meno perché se io spedisco flaconi o monodosi le metto dentro la scatola di cartone se spedisco le tanniche non mi serve la scatola di cartone e 33 kg di plastica in meno su questo ragioniamoci perché è molto importante il discorso dell'inquinamento quindi se abbiamo modo di avere prodotti che ci aiutano a evitare alcuni consumi a ridurre alcuni consumi questo direi che li sta toccando veramente tutti per riportarci un attimino invece sul discorso legato agli alberghi nel progetto Plastic Free che abbiamo presentato alla fine del 2019 alla nota catena alberghiera dottor Sai Barbara che io sono commentore da tanti anni alla presidenza abbiamo presentato il progetto e abbiamo stimato un abbattimento della plastica da 1278 kg di plastica consegnata in tutte le strutture alberghiere in un anno intero a 109 vedi un po' e da 500 kg di cartone a zero importantissimo a proposito Roberto visto che saremo a Roma il 4 giugno invita qualche governante di questa catena me ne ha parlato la tua socia poi non so se ho detto una cosa stupida prima forse ho detto 27 giugno perché stavo pensando ad altro il compleanno la diretta con Stefano Cornoni è il 17 giugno quindi non so che data abbiamo parlato prima con Roberto di questo sì 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 me l'ha già detto e ho già detto a Correglia prima che lunedì mi concentro su qualche messaggio e mail mandare a qualcuno che potrebbe essere interessato a venire a volarci a Roma assolutamente sì secondo me è importante che capiscano tutti cosa stiamo facendo perché stiamo facendo tre di bene a tutti perché alla fine dei conti stiamo dando informazioni importanti come siamo con il capo io 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 siamo che mi hai troncato per cui ho fatto le corse bravo bravissimi siamo arrivati a una certa ora che insomma però alla fine abbiamo fatto un'ora e mezza di diretta è stato bello vero è sempre tutto senza di me adesso a vedere cosa avete detto allora io volevo dirvi a tutti quanti non so se sono delle altre domande Barbara perché io non le vedo guardate voi perché io non no no abbiamo letto tutto vedo che abbiamo letto abbiamo letto tutto così mi pare ok perfetto volevo sempre invitarvi a essere curiosi di sapere che cos'è l'associazione che è nata adesso quindi mandateci pure un'e-mail per vere info noi vi daremo tutte le indicazioni dell'associazione italiana operatori hotel e non è aperto soltanto all'house keeping ma è aperto a tutto il genere pulizie è aperto alla zona ristorante sala colazioni ma non inteso pulizie e basta inteso proprio cameriere di sala e tutto quello che riguarda 360 gradi tutto tutto quello che riguarda tutto quello che può essere che può essere informazioni dei nostri reparti anche perché nell'associazione fanno parte delle persone competenti riguarda a vari reparti dell'hotel quindi potranno darvi tutte le risposte e la formazione adeguata adesso inizieremo a dare i nomi anche quindi nei prossimi giorni scriveremo chi c'è chi sono le persone come stai bene tutto bene hanno ripreso gli alberghi a Milano qualcosina diciamo di sì diciamo di sì speriamo 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 tutti bene speriamo speriamo davvero oggi siamo stati in possiamo anche dirlo siamo andati all'una hotel expo fiera exato hotel expo fiera la mia bestia e lì c'era un po' di movimento perché loro sono legati al giro d'Italia quindi finalmente in albergo e ho visto qualcosa che si muoveva c'erano delle persone vere c'erano delle persone capito non erano bellissimo molto bello non delle ombre bene sì come siamo messe siamo sì ci salutiamo salutiamo Roberto e ringraziamo Roberto io ringrazio voi come sempre cose interessanti che ci ha dato ringraziamo Fabrizio per la sua sempre presenza dove è l'altro moschettiere scusate benvenuto bel tempo sarà al lago c'è bel tempo da qualche parte o a surfare o a camminare che lo sono sempre presente e sempre con noi a ogni diretta Jean-Claude grazie e tutti quanti chi ci ha seguito voglio fare un saluto scusate visto che c'è lei approfitto del suo telefono a Martina Caslatter ovviamente Vittorio della ciao Martina Katia Ciabatti Maria Rita Sgro vabbè Franco Sintrin ovviamente Stefano Martoni Stefano ok Timmy Marton La Caligrazia non vedo Cristina Vita e tutti gli altri Roxana tutti quelli Katia Ciabatti un abbraccio a tutti ci vediamo giovedì prossimo e attenzione giovedì prossimo sapete chi c'è c'è ancora io c'è Paola Botto che ci parla dei micro organismi quindi Roberto non puoi mancare neanche tu ci devi essere giovedì devo guardare l'agenda perché non mi ricordo il 3 maggio il 3 o il 6 cos'è giovedì ormai la mia agenda è diventata una bolge ormai non ti dico la nostra bene ragazzi allora noi andiamo a faccio lo spritz un bacio a tutti un bacio ciao a tutti ciao 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 ciao